Mi si è archiviata la pratica della finale di Coppa Italia, domani un'altra battaglia a Solmona. Si, diciamo così una battaglia, una partita difficilissima, complicata, un allenatore molto bravo che conosco bene e qui diciamo in questa categoria per sbaglio, che ha fatto tanti anni nella Serie D e quindi ci aspettiamo una partita contro una squadra che ha dei valori importanti, giocatori importanti, che sanno fare gol, sanno vincere le partite, sanno gestire, c'è un mix di esperienza e gioventù di questa squadra. In casa soprattutto sono molto tenibili, detto questo noi però abbiamo tutti a disposizione, domani manca solo di Giuseppe, per il resto abbiamo tutti quanti pronti per darci una grande contributo per cercare di portare a casa tre punti perché noi dobbiamo cercare di vincere questa partita. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.